Fere, qual è una delle cose che i consolini ci hanno chiesto in assoluto più di riportare in questi mesi, mesi, mesi? Eh, non lo so, Steph, forse il nascondino? Esattamente! Sai che cosa rifacciamo oggi, Fere? Il nascondino! Però, come sempre, noi dobbiamo reinventare le cose, perché altrimenti non ci piace. Quindi abbiamo pensato a un nascondino un po' particolare. Credo che potrete già capire qualcosina, dato che ci sono un botto di animali, e non so se avete notato, ma io sono una mucca. Come funziona questo oggi? Ciao, mucca, Steph! Allora, ciao, mucca, Fere, ma anche se non sei una mucca, presto lo sarai. Come vedete, siamo in una mappa, una bellissima fattoria che ci ha costruito il nostro assistente. Qua è pieno di animali. Noi ci trasformiamo in un animale e ci dobbiamo nascondere in mezzo ad essi. Qual è l'obiettivo di chi si nasconde? Deve riuscire a colpire la persona che cerca cinque volte con le palle di neve. Se riesco a ritare cinque volte Fere senza farmi becare, vinco io. Se invece Fere mi becca e mi ammazza, vince lei. È molto, molto semplice, però volevamo cambiare un pochettino le cose. È una sorta di nascondino gessù, secondo me. Con regole un po' cambiate. Perché comunque avere un obiettivo anche quando ti nascondi non c'è mai stato. È quella la novità, è lì il punto. Perché altrimenti sì, è un gessù su Minecraft. Ma col fatto di avere un obiettivo anche mentre si sta nascosti, secondo me è tutto più funny. Ok, Fere, sei pronta? Sì, allora inizi tu, sei già mucca. Sì, esatto. E mi sa che vado un attimino qua. Ok. Guardo in terra, così non vedo nulla. Così tu inizi a girongiolare. Ti do tipo dieci secondi per mischiarti bene tra gli animali, così non ti vedo più. Va bene. E poi tocca cercarti. Ok. Allora, quindi io in questo momento posso usare una spada, giusto? Sì, una spada di legno per essere precisi. Vado pure, Fere, io sono già in mezzo alle mie amiche mucche e mi sto divertendo tantissimo. Secondo me le mucche ti seguono molto con lo sguardo e tutto, quindi se tu non mi guardi... Ah, bella tattica, Fere. Come sei questo? No, vero? No, no. Allora, perché noi, diciamolo, quando veniamo colpiti, dobbiamo correre e saltare, perché l'animale normale corre, quindi ci dobbiamo comunque far distinguere, tipo, ehi, mi è beccato, perché è giusto farlo sapere. Esatto. Ma porca. Eri tu? A fare. No. Ho provato a tirare la mia prima palla di neve. Quindi sei vicino. E ho ritattato una mucca. Sei molto vicino. Ah, aspetta. Io in questa zona però ho visto una mucca scappare. E davvero? Sì. E dove? Siccome sei questo. Non sei scappato, sei questo. Sei questo? Ma porca. Sei quello! Ti ho trovato! Allora, ti sei fatto fregare, Steph. Ma io non posso saltare questa fence. Come fa a saltare così tanto? Stai fermo, Mucca. Io non ho saltato. Mucca, Steph, fermati. Dove è finito? Mucca, Steph. Allora. Dai però. Beh, vale rinascondersi. Quanta vita hai? Beh, non troppa. Ti ho visto! Ti ho visto! Ho visto la palla di neve! Ma è andato bene. Pensavo sarebbe stato molto più pubblico. E infatti, cercando di stare, ti sei fatto fregare. Che succede? Ho giocato dalla terza persona. È certo che è difficile colpire. Io eravamo tenuto la terza persona per far vedere i consolini. Ma io non ti ho visto che stavi giocando. Ho giocato tutto in terza persona. Ecco perché era così complicato. Io dicevo, ma porca miseria, ma perché non riesco a ittarla? Così è facile. No, così è certo che è più semplice. Ti dicevo, ti sei autotradito, Steph. Perché ho visto la prima mucca che tu avevi colpito scappare. E lì è stato il vero indizio. Poi anche ora mi giro e vedo una palla di neve fallita. Quindi ho detto... E ci ho provato. Eh, vabbè. Signorina, dove è nascosta? Eh, chi lo sa. E poi sono un maialino. Quindi mi devi chiamare... Sì, sì. No, no, non mi viene in mente niente. Signora maialina. Era brutto. Perché poi quello è signor maialino, quindi non aveva senso. Va bene. Lo so. Ok, ok, ok. Quindi dobbiamo cercare un maiale, un maiale, un maiale. Con chi c'erai, Steph? No, no, no. Un maiale mi ha guardato in modo un po' strano. E non so se era lui. Interessante. Questo maiale è assai interessante. No. Immagino che la signorina è vicina. È bellissimo vederti fallire. Allora. Eh. Che vuoi? Smettila che mi uccidi! Cavolo, perché mi sono nascosta tra le fence? È stata una pessima idea. E poi perché sono scoppiata a ridere? Dai, è un po' ridicolo vederti. Ti spiego, ti spiego, ti spiego. Ah, fammi tornare normale. Quando praticamente c'è un maialino, ok, io lo guardo, prima o poi lui si muove, a noi viene da pietrificarci? Ma io ti ho guardato, ho cercato di fare il loro sguardo. Ma dovevi anche muoverti, prima o poi ti sei seduta a muovere, invece non hai avuto il coraggio. È la prima volta che stiamo interpretando degli animali di Minecraft, è molto complicato. Perché tu, allora, li dai sempre per scontati. Non è che ti ricordi al 100% tutti i movimenti che fanno, quello che non fanno. È un'ansia assurda. Oh, cavolo, è davvero difficile vedere come pollo, Fere. Sono un po' in difficoltà. Ok. Comunque c'è una nuova regola. Dato che il pollo muore con un solo colpo, da pollo giochiamo un po' più nascondino a nascondino. Quindi proprio in un posto abbastanza nascosto. Infatti facciamo che avrai quattro minuti per trovarmi. Ok. Va bene? Ok. Ok. Ma quindi stai fermo o nascosto o vai in giro? Posso fare quello che voglio. Ok, fai quello che vuoi. Esatto, però... Ok? Sì. Via? Sì, via. Mi sto già cercando. Ok. Allora, i polli sono un po' i più assenti perché ti calcolano meno degli altri animali, quindi è davvero difficile trovare il polletto. Fere, se vedessi la visuale che ho io, non ti lamenteresti più perché ti giuro che vedo solo erba. Erba e grano. E allora non farò mai il pollo. Comunque vedi erba, quindi questo è un bel indizio, Steph. Non devi parlare troppo. Vabbè, volevo far capire le difficoltà di un pollo. Ma quindi non lo posso colpire giusto il polletto perché lo ucciderei? Esatto. E come faccio a capire? Magari mi devo nascondere proprio. Dai, sì, mi nascondo totalmente. Eh, perché è davvero difficile, Steph. Cioè, non potendo neanche fare un tentativo. Eh, è tosta. Hai ragione, hai ragione. È tosta. Ok. Ok. Cioè, com'è? Poi i polletti, insomma, sono davvero tanti. Tu li hai messi. Secondo me sono più delle mucche e più del... Hai esagerato. Ah, vabbè, perché erano carine, erano piccoli, quindi ne ho messo tanti. Allora. Sei questo, vero? Ti ho visto a cascare. Perché ti fa... Allora, Steph, siccome... Sì. ...non possono finire in round e ti vede ancora fatta in questo modo così ridicolo, io faccio finta di non averti vista cascare da lì e ti do un'altra chance. Cancelliamo questo fail, perché tu l'avresti dovuto vedere dalla mia visuale, Steph. Un pollo che ti casca di fronte mentre tu stai girozzolando nella tua fattoria. Ok? Ok. Hai fatto? Sì. Ok. È un fail vivente, cioè. Si vede che si è arrugginito con l'ascondimento, Steph. Prima eri quello che non veniva mai trovato, quello sempre furbo, sempre scaltro. Ora non lo sei più, secondo me. Allora, ti sei nascosto all'aperto. Ho visto una palla di neve, sei questo. Sei questo. 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 Questo sei tu. Questo. Sei tu, perché non sei morto. No, non sei tu. Ma l'ho ucciso. Allora un colpo glielo si può dare con la spada di... Continuiavi a star zitto, mi sembravi tu, scusa. Però sei qui in zona, perché hai provato a tirarmi una palla di neve. Va bene, Fede, va bene. Sei questo. Ok, Fede. Quanti polli devi ammazzare? Lasci metti di terminarli? Due. Ma porca miseria. Eh, Steph, come faccio a capire se ti metti in mezzo? I miei fratellini. Fai zitto, non cercare di far pena, sei questo. Eh, vabbè, ne ammazzo un altro. No, non li sto più picchiando. Ma se li picchio a mani nude, gli faccio così tanto male. Aspetta. No, ok, non li ammazzo. Sei questo. Devi saltare, però, se sei tu, eh, caro mio. Eh, non sono io. Che chiamano voi? Anche se i polletti saltano, comunque. Eh, lo so. Quadrupli, più difficile. Urlerò. Quattro volte più difficile, volevo dire. Mi arrendo, Steph. Dov'eri? Basta. Fede? Eh. Sei quello? Sì. Aspetta. Ciao. Ciao. Ti voglio tirare io le palle di neve. Ma non riesco a colpirti. Ma hai problemi tu con le palle di neve, Steph? Cioè, ti sto colpendo? No. Sembra che te le tiri in faccia. Perché credo sia colpa dell'erbaccia. Eh, beh, sì. Perché sei piccolino. Eh, porca miseria. Vabbè. Tanto non dovevo usarle per questo round. Fede, dove sei? Mi sono nascosta stavolta. Ok. Io ho voluto aggiungere un'altra particolarità. Ma come? Me lo devi dire. Mi sono girata per dirti ma come. E ti ho visto. Posso colpire? Quindi devo trovare una mucca che cerca una mucca. Esatto. Devo aspettarmi una mucca che mi cerca. Esatto. Wow. Ogni volta che avrei una mucca vicino sarai in ansia. E questa è la tattica di Steph. Metterti in ansia. Eh, non mi piace molto. A priori da tutto. Comunque l'assistente si è superata. È una figata pazzesca sta roba. Mi piace un sacco. Allora, a proposito dell'assistente. Sì. Siccome ho letto tanti commenti, voglio dare un nuovo indizio. Ok. Perché per ora noi lo terremo con un alone di mistero. Però voglio dare un nuovo indizio. Ok. È una persona che non conoscete. Ovvero che non si è mai vista su YouTube. Quindi non sapete proprio chi è. Però sarà divertente vedere se magari riescono a indovinare prima o poi il nome. O qualche curiosità in più. Quindi scatenatevi e fateli tanti complimenti per questa mappa. Perché tanto lui li legge sempre ed è molto molto contento. Allora, io ho notato una cosa. Tornando un po' alle origini di Gessù. La signorina non sta toccando la sua bella tastiera. Ovviamente. Ti ho detto che sono nascosta quindi sono ferma, Steph. Sono ferma in un punto. Te l'ho anche detto, dai. Non è una novità. Capisco. E non hai paura delle mucche che hai vicino, Fere? No. Qualcuno potrei essere, io. No? No. Ti senti tranquilla? Sì, molto. Capisco. Perché secondo me è un ottimo nascondiglio e non mi troverai mai, Steph. E se ti dicessi che so dove sei? Non lo sai. E se te lo dicessi? Dove sono? Eh, cara, cara. Vedrai, vedrai, vedrai. Vedi che non sei sicuro? Sì, sì, sì. Non sei sicuro, Steph. Va bene, va bene. Le mucche che ho vicino mi difendono. E tu sei sicura che le mucche che hai vicino non sono io? Sì. Ma io non ne sarei così sicura. No, io sono sicurissima. Secondo me sono molto vicino a te, cara mia. No. Sono molto vicino a te. Mi spiace. Ma l'avresti già detto e mi avresti cercato di colpire, cosa che evidentemente non hai fatto, capisci? Ok, ok, ok. Capisci. Sei molto furba e non ti fai fregare. Ho capito, ho capito. Comunque io al posto tuo starei un po' in ansia, starei pronto a correre, a muovermi. Mi sono messa anche a chiacchierare dell'assistente, quindi sono tranquillissima. Capisco, 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 capisco. Sei fregato, Steph. Ah sì? Dici che non ti troverò mai? Ma secondo me già ti trovo. Ok che stavo bleffando un po', però secondo me ti posso trovare. No, stavi bleffando tanto, perché il mio nascondiglio è talmente perfetto che tu non mi troverai mai. E prima o poi mi implorerai, mi chiederai, ma dove sei? Ti prego dimmelo perché io sto impazzendo qua. non ce la posso fare a continuare. Muori, maledetta mucca! È difficile picchiare. Scusate altre mucche. Devo ammazzare sulla fere. Scusate. Ho maschiati o no? Io ti sto tirando palle di nero. Ma schiati o no? Ti pesto. Oh, alleluia. Ero davvero lì, eh? Ma davvero? Sì, da due minuti. Facevo la mucca normale e piano piano mi avvicinavo di qualche passo. Non l'avevo mai mentito. Il bleff era dire che bleffavo. Ti stai riprendendo la mano. C'era la mucca che era ferma lì da dieci minuti, che cavolo ti devo dire? E poi dietro al finile è un po' troppo facile. Eh no, perché allora naturalmente molte si filano là, quindi poteva essere un'altra mucca che rimane lì ferma a due ore. E in effetti ce n'erano altre ferme per due ore che mi stavano appicciccate. Eh, ma non ferme, 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 ha capito? Qualche passetto l'avresti dovuto fare.